In studio, Veronica Puglisi. Buonasera a tutti, lo avete sentito dai titoli di prima pagina. Comitato Ordine e Sicurezza nel pomeriggio a Palermo alla presenza del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il Ministro sta lavorando, ha detto, per un patto di sicurezza per la città di Palermo. Bisogna innalzare il livello di contrasto contro la mala movida a Palermo dopo i diversi episodi di criminalità degli ultimi mesi. L'ultimo in ordine di tempo, l'omicidio di Rosolino Celesia in una discoteca e l'uccisione di un altro ragazzo nei pressi di un altro locale a Balestrate. Proveremo a mettere in campo qualcosa per rafforzare anche l'idea di sicurezza. E quanto assicurato dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si è svolto in prefettura a Palermo. Un patto istituzionale per aumentare i livelli nella città di Palermo e in provincia, attraverso lo stanziamento di risorse da parte del Ministero dell'Interno e il rafforzamento degli organici delle forze dell'Ordine, ha aggiunto ancora Piantedosi. Affrontati anche temi della mala movida, il contrasto alle piazze per lo spaccio di droga, la criminalità che proietta Palermo nell'alveo di altre città d'Italia. Se poi alla fine si fa ricorso a sistemi come tecnologici, come le videosorveglianze, Metal Detector, adesso non so come possano servire una circostanza del genere, o qualsiasi altra cosa, se sono qualificate, individuate dagli esperti, come accessorie importanti, insomma, di aiuto a quella che è l'attività, che comunque deve essere delle pubbliche istituzioni, quindi pubbliche, perché la sicurezza pubblica è e deve essere e sarà sempre una funzione svolta dalle istituzioni pubbliche, se comunque servono queste tecnologie e ben vengono. Per quanto riguarda le norme di restrizione che riguardano la stampa, così come sollevato da un giornalista in conferenza stampa, il Ministro ha tenuto a sottolineare di avere talmente a cuore la stampa tanto da avere riavviato l'osservatorio contro gli atti contro i giornalisti, aggiungendo, mi sfugge quali possano essere queste norme, ma dico che non c'è alcun rischio, ha concluso Piantedosi. Consegnate le chiavi di un bene confiscato alla mafia alla procura di Palermo per destinarlo a sede della sezione di polizia giudiziaria, oggi la cerimonia in prefettura, proprio alla presenza del Ministro Piantedosi. Apparteneva al mafioso Domenico Caravello, l'edificio confiscato e consegnato al Presidente della Corte d'Appello, Matteo Frasca, nel corso di una cerimonia in prefettura a Palermo, con la consegna delle chiavi dell'immobile da parte del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. L'assegnazione di un bene confiscato alla mafia alla procura di Palermo per destinarlo a sede della sezione di polizia giudiziaria ha un valore fortemente simbolico ed è un segno tangibile che con i patrimoni della criminalità organizzata contribuiamo a rafforzare la lotta alla mafia, ha detto il Ministro Piantedosi. Si tratta di una struttura di 800 metri quadrati che si trova nel quartiere Partanna Mondello. Non solo è una riaffermazione dello Stato, con le regole dello Stato di diritto sulla criminalità organizzata, ma è anche un evento che consenta di recuperare efficienza e efficacia all'azione della polizia giudiziaria trovando una collocazione adeguata, idonea, funzionale rispetto a quella effettivamente precaria in cui si trovava. Auspico che questo sia un percorso soltanto iniziato e sia viatico di una continua acquisizione di beni a dimostrazione che non è affatto vero, che i beni confiscati finiscono male, ma semmai esattamente il contrario. Auspico che sia solo un percorso iniziale e sia viatico di una continua acquisizione di beni, ha invece detto la procuratrice generale Lia Sava. Che la sezione di Polizia di Stato vada in una zona di Palermo e occupi uno spazio di 800 metri quadrati significherà anche per la città una presenza forte dello Stato. Presente anche il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, che ha rimarcato la rapidità dell'iter che ha portato all'assegnazione. Per noi quindi è un segno anche di testimonianza dell'efficienza della macchina dello Stato quando si muove, risultati importanti vengono conseguiti. Quindi estrema soddisfazione e un ringraziamento a chi ci ha consentito di arrivare a questo risultato. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha invece rimarcato l'impegno della prefettura. Naturalmente ci impegneremo perché altri momenti di questo tipo vengono posti in atto prossimamente. Noi con la prefettura saremo ovviamente a disposizione. Presente alla cerimonia tra le altre anche il prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati e Sequestrati, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalle, e il presidente della regione siciliana, Renato Schifani. Cambiamo argomento. Il GIP ha convalidato il fermo della 17enne figlia di Giovanni Barreca che ad Altavilla Milici ha ucciso moglie e figli insieme a due complici. L'adolescente ha rivelato il suo pieno coinvolgimento nei fatti fornendo un resoconto agghiacciante. L'adolescente ha rivelato il suo pieno coinvolgimento nei fatti. Si è presentata alla procura per i minorenni di Palermo e ha raccontato tutto. Rivelazioni agghiaccianti che hanno indotto il magistrato a disporre il fermo già convalidato. La ragazza deve rispondere ad esso di omicidio pluriaggravato in concorso e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, la 17enne ha partecipato ai riti insieme al padre Giovanni Barreca e altre due persone, Sabrina Fina e Massimo Carandente, che hanno determinato la morte della madre, Antonella Salomone, e i dei due fratelli di 5 e 16 anni, Emanuel e Kevin. Era il 14 febbraio, tre giorni dopo il ritrovamento dei cadaveri, dei fratelli e della madre, quando già era stata affidata a una comunità protetta. Poi la svolta, interrogata in presenza del suo legale, ha rivelato cosa è accaduto nella sua abitazione, fornendo un resoconto agghiacciante, il racconto delle torture subite dalla madre e dai fratelli, le loro atroci sofferenze, l'agonia fino alla morte. La ragazza ha raccontato anche quanto successo dopo l'assassinio della madre e come il padre e i complici diedero fuoco al cadavere e successivamente seppellirono i resti. La minore ha detto già da anni c'erano dei demoni in casa e che per colpa dei diavoli erano accadute delle cose negative alla sua famiglia, perciò avevano avuto la necessità di scacciarli dalla madre e dal fratello sedicenne, molto legato alla donna e quindi posseduto dalle stesse figure demoniache. Una banale elite per l'affitto di un campetto di calcio, lo scorso 28 novembre, sfociata in un tentato omicidio a Catania. Adesso per quel ferimento è stato arrestato un uomo di 32 anni, Andrea Calabretta. La notte del 28 novembre scorso, a Catania, al culmine di una lite per questioni legate ad una partita di calcetto, avrebbe tentato di uccidere il cugino, sparandogli alcuni colpi di pistola che lo raggiunsero alla coscia, a soli 3 centimetri dall'arteria femorale. E ciò che la procura della Repubblica Catanese contesta un uomo di 32 anni, Andrea Calabretta, arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e porto ed illegale detenzione in luogo pubblico di arma comune da sparo. L'uomo, abbandonato ferito e riverso a terra in via Capopassero, arrivato in ospedale fu sottoposto ad un intervento chirurgico e dichiarato guaribile in più di 40 giorni. Secondo quanto accertato dalle indagini della squadra mobile, coordinate dalla procura etnea e avviate dopo la segnalazione dei sanitari dell'ospedale, durante una partita di calcetto, ci sarebbe stata una lite con il cognato di Calabretta per contrasti su una fase di gioco, per cui la vittima avrebbe voluto pagare solo una quota, 7 euro, dei 14 euro dovuti per l'affitto del campetto, senza riconoscere la vittoria degli avversari. La lite sarebbe poi continuata in via Capopassero, dove sarebbe avvenuto il ferimento, poco dopo l'una e un quarto, per mano di Calabretta, cognato dell'avversario e cugino della stessa vittima. Le indagini si sono avvalse delle immagini delle telecamere di sorveglianza e delle dichiarazioni di alcuni testimoni. Calabretta, rintracciato all'interno di una stalla in una strada sterrata adiacente via Capopassero, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. La testimonianza del ministro dell'interno Piantedosi chiarisce tutto, lo ha detto l'avvocato Giulia Buongiorno, legale di Matteo Salvini, alla fine dell'udienza a di oggi del processo Penams. La stessa Buongiorno ribadisce abbiamo fatto quello che era previsto dalla legge. Sarà ridotta la mia lista di testimoni, l'ho detto prendendo atto della lucidità con la quale il ministro Matteo Piantedosi ha ricostruito l'intera vicenda. Ha evidenziato non solo l'estrema correttezza dell'operato del ministro dell'interno, ma finalmente in modo chiaro ha definito la linea di demarcazione che esiste tra chi si deve occupare di eventuali problemi di salute, incolumità, igiene e chi si deve occupare di sicurezza. Sono le parole dell'avvocato Giulia Buongiorno, legale di Matteo Salvini al processo Open Arms, imputato di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato l'approdo a Lampedusa nell'agosto del 2019 all'imbarcazione della ONG Open Arms con 147 migranti, soccorsi in mare. A fine udienza Buongiorno commenta la testimonianza di oggi del ministro dell'interno Matteo Piantedosi all'epoca a capo di gabinetto al Viminale. Se i migranti stavano male sarebbero scesi a ribadito. Siccome il presupposto dell'accusa è non è stato dato il post, invece si doveva dare il post perché c'era una situazione gravissima a bordo, è stato detto, ma tanto risultava dagli atti, che se ci fosse stata una situazione gravissima a bordo sarebbe stata necessaria un'attestazione di CIRM e USMAF e la guardia costiera avrebbe fatto scendere i migranti come è accaduto per la Marionio. Due settimane è il tempo che viene dato ai governi per prendere accordi con gli altri esponenti europei. Ha aggiunto il legale Giulia Buongiorno. Il tempo di attesa per il post è di due settimane. Qui stiamo parlando invece di un tempo ben minore. Queste due settimane sono quelle due settimane che servono per prendere accordi con l'Europa. Se ci sono delle condizioni in cui i migranti possono stare a bordo e se manca la certificazione di USMAF e CIRM vuol dire che si può continuare ad andare avanti. Se durante l'attesa delle risposte europee arriva la certificazione non si deve andare avanti. Il campione del mondo Marco Tardelli che fece sognare l'Italia intera nel 1982 è imputato in un processo per abusivismo edilizio davanti al tribunale di Marsala. L'accusa gli contesta la realizzazione di opere non autorizzate nella sua villa di Pantelleria. Il campione del mondo del 1982 Marco Tardelli si trova nella scomoda posizione di imputato. Andrà a giudizio in un processo per abusivismo edilizio davanti il tribunale di Marsala. L'accusa gli contesta la realizzazione di opere non autorizzate nella sua villa di Pantelleria e, nello specifico, l'ampliamento del suo dammuso di Punta Carace e la costruzione di una piscina nell'immobile in cui è solito passare le vacanze estive insieme alla compagna Mirta Merlino. La procura marsalese competente per territorio ha aperto il fascicolo nel 2022 e il processo si tiene davanti al giudice monocratico Matteo Torre. A difendere Tardelli è l'avvocato Enrico Tignini del Foro di Palermo che al momento si limita a dire ci difenderemo dalle accuse ritenendo di poter chiarire tutti i fatti contestati. La vicenda inizia prima del 2022 quando lo stesso Tardelli segnalò i lavori in questione per capire se vi fossero costruzioni da sanare. Da lì partì il sopralluogo della polizia locale di Pantelleria e la comunicazione alla sovrintendenza ai beni culturali di Trapani. La commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici avvia un'indagine sulla delibera per la sanatoria delle case confiscate alla mafia occupate abusivamente. Alla luce delle notizie emerse il presidente Cracolici ha ritenuto opportuno convocare il sindaco di Palermo perché offra tutti i chiarimenti necessari per risolvere un'emergenza che sta scuotendo l'opinione pubblica. La delibera della giunta comunale approvata lo scorso dicembre su proposta dell'assessore all'emergenza abitativa Antonella Tirrito consente agli occupanti dei beni confiscati di chiedere una sanatoria dietro pagamento dei canoni pregressi a partire dalla data di occupazione. Per il sindaco La Galla la delibera è guidata dall'interesse dell'amministrazione comunale di andare incontro al bisogno e di fornire risposte nel rispetto della legalità e della giustizia sociale. Un incendio ha coinvolto questa mattina un'attività commerciale in viale della regione a Palermo due dipendenti sono rimasti intossicati. Sono rimasti intossicati dai fumi della combustione affidati al personale delle ambulanze del 118 due impiegati di un'attività commerciale adibita alla vendita di prodotti per la casa e biancheria a seguito dell'incendio scoppiato in tarda mattinata a Palermo è accaduto in viale della regione 6 le squadre dei vigili del fuoco del comando di Palermo del distaccamento di Bocca di Falco e Brancaccio intervenute intorno alle 12 circa due ore sono state impiegate per domare il rogo che ha interessato i magazzini di deposito a servizio della stessa attività posizionati nella parte del retrostante ai locali di vendita le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 14 l'attività è proseguita con le operazioni di smassamento e bonifica dei locali sul posto era presente la Polizia di Stato da chiarire le possibili cause del rogo la cenere impastata con l'acqua e poi messa sulla fronte con il segno della croce dei bambini nel catechismo in occasione del mercoledì delle ceneri avrebbe provocato una reazione allergica con bruciori e macchie sulla pelle è successo nella parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano alcuni bambini hanno fatto ricorso alle cure dei medici che avrebbero diagnosticato ustioni di primo e secondo grado la stessa reazione l'avrebbero avuta anche alcuni adulti il parroco ha preannunciato che farà effettuare le analisi di laboratorio sulle ceneri conservate in un contenitore due persone devono rispondere di furto aggravato su delega della procura di Catania i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emesso dal GIP del Tribunale di Catania un cinquantenne un trentenne si trovano ai domiciliari con braccialetto elettronico per furto aggravato i fatti risalgono allo scorso 26 gennaio quando i due malviventi sono stati sorpresi nel cortile di un'abitazione di via Ippocampo di mare dove stavano ammassando una grossa quantità di genere alimentari e vari elettrodomestici tutto appena rubato da una villetta confinante con il giardino grazie all'intervento dei carabinieri il furto è stato sventato e arrestato il cinquantenne mentre l'altro ragazzo era riuscito a fuggire l'uomo è stato trovato con monili in oro e altra rifurtiva tra cui le chiavi di una macchina dove all'interno del portaoggetti militari hanno trovato la carta di identità del cinquantenne prova che la coppia aveva adoperato quel veicolo per raggiungere l'immobile da saccheggiare l'ispezione è stata estesa anche all'abitazione oggetto di furto in cui i malviventi avevano avuto accesso danneggiando sia parte della recinzione che delimitava i confini delle due proprietà e sia la porta sul retro scardinata all'interno tutte le stanze erano state messe a soquadro è stata pertanto contattata la proprietaria che una volta raggiunta la pattuglia ha riconosciuto tutti gli oggetti rinvenuti dai militari nel cortile accanto o nelle tasche del ladro nel frattempo le indagini hanno portato ad individuare e ad arrestare anche il complice di 30 anni continua la protesta degli agricoltori in Sicilia a mobilitazione nel Trapanese un migliaio di persone hanno scelto oggi di sostenere la manifestazione indetta da Confsal Copagri Feder Agri FNA Confagricoltura e Liberi Agricoltori in provincia di Trapani martedì anche un incontro con il ministro Lollo Brigida emerge questo a seguito della protesta iniziata questa mattina in intorno alle 9 che verrà ripetuta domani mattina in altri tre punti della provincia di Trapani la misura più urgente è stato detto questa mattina durante la protesta a Marsala è quello che può mettere qualche migliaio di euro nelle tasche degli agricoltori è quella relativa al ristoro per i danni subiti dalle produzioni nelle due campagne agrarie le aziende agricole chiedono altresì la possibilità di reinvestire gli utili nell'azienda con il duplice scopo di migliorare il ciclo produttivo e rimanere competitive sui mercati dopo i danni causati dalla pandemia prima e dagli scenari di guerra dopo che hanno fatto raddoppiare se non triplicare i costi di produzione chiediamo il prezzo minimo per il conferimento delle nostre uve nelle cantine sociali perché non è ammissibile che il raccolto di un anno venga mortificato da prezzi così bassi hanno detto i produttori questa mattina tra le altre rivendicazioni sindacali delle segreterie presenti spicca l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture rurali gli invasi le reti idriche e di distribuzione e le strade subiscono la minaccia del miele estero gli apicoltori siciliani che devono fare conti anche con costi più alti la produzione agricola italiana e siciliana è sempre più minacciata dall'estero con non continue importazioni che mettono in ginocchio i mercati interni e l'eccellenza del territorio succede anche per il miele che risente sempre più della minaccia estera che di fatto rovina il mercato con prodotti di bassissima qualità e prezzi stracciati ecco perché gli apicoltori chiedono attenzione a questa delicata problematica come tra l'altro evidenziato anche durante la protesta degli agricoltori a Palermo di qualche giorno fa ci siamo recati stamattina a Zafferane incontrando il rappresentante della cooperativa degli apicoltori che ci spiega che il miele prodotto in Sicilia ha dei costi di produzione più alti come lo zucchero per alimentare le api o il gasolio per trasportare i prodotti e anno dopo anno la produzione si dimezza rispetto al passato siamo in enorme sofferenza e francamente in grossa difficoltà chiaramente la nostra prima difficoltà è quella della produzione sappiamo che la produzione anche oggi non ci aiuta con questo clima torrito e quindi molto difficile ma ci scoraggia poco perché alla fine produciamo un po' di meno ma riusciamo in qualche modo a mantenere la qualità e direi l'alta qualità nella minaccia più grossa è questa concorrenza sleale e direi tante volte anche occulta di questo prodotto io direi che è un surrogato non possiamo neanche chiamarlo miele che va presentato a prezzi stracciati e tante volte crea confusione proprio al consumatore cosa può fare il governo nazionale e cosa può fare l'Europa? intanto la chiarezza nella presentazione di questi prodotti in modo che il consumatore già a prima vista e senza difficoltà sa cosa sta comprando poi chiediamo anche questo di investire nei laboratori di analisi in modo che riescano senza ombra di dubbio a poter classificare questi prodotti in realtà sono degli sciroppi che poi magari con aggiunta di pollini vanno presentati con diverse etichette e magari spacciati per demonoflora noi come comparto di produttori richiediamo degli aiuti aiuti che potrebbero essere quelli del sostentamento delle nostre armi la regione siciliana comprerà 7 milioni e mezzo di euro di agrumi da trasformare in succhi da destinare a scopi umanitari e di solidarietà sociale la norma entra nella fase operativa con la pubblicazione dell'avviso rivolto alle organizzazioni di produttori ai trasformatori di agrumi ai singoli agrumicoltori ciascun prodotto e passaggio della filiera dovrà essere realizzato in Sicilia utilizzando solo ed esclusivamente materie prime prodotte sul territorio regionale adesso ci fermiamo c'è una breve pausa pubblicitaria a tra poco seconda e ultima parte del nostro telegiornale Scicli ha un nuovo assessore Valeria Timperanza succede a Peppe Puglisi e Valeria Timperanza è il nuovo assessore della Giunta Marino una laurea in scienze politiche consulente del lavoro e madre di una ragazzina di 12 anni la Timperanza succede a Peppe Puglisi a quest'ultimo l'incarico fu revocato dal sindaco Marino in seguito alle accuse mosse nei confronti dell'esponente di Giunta per presunti coinvolgimenti negli scontri del fine partita tra lo Scicli e il Ragusa lo scorso mese la Timperanza acquisisce le deleghe allo sport al decentramento alle borgate alle politiche giovanili alla mobilità sostenibile ai rapporti con il consiglio comunale assumendo inoltre le politiche per l'immigrazione la cultura e i beni culturali rimodulate le deleghe all'assessore Gianni Falla che mantiene centri d'incontro spettacoli folklore e tradizioni pari opportunità assumendo anche il turismo e la promozione del territorio invariate le altre deleghe per la Timperanza e un ritorno a Palazzo di Città fu infatti assessore nella giunta Susino nel 2013 e il suo nuovo mandato sarà all'insegna della continuità politica addetto ai nostri microfoni fiera di essere di nuovo in campo per il mio paese che amo gli obiettivi obiettivi tanti continuità in quello che ha fatto l'ex assessore Puglisi nuove progettualità e soprattutto rete fare rete sarà il mio obiettivo principale C'è coesione a questo punto con l'ex assessore vi siete sentiti? Senza dubbio faccio parte di Libertà Popolare e rappresento in giunta Libertà Popolare Ha sentito Puglisi? Sì, certo ovviamente sì con immenso piacere Le ha fatto gli auguri? Ovvio, sì mi ha mi ha voluto prettamente lui e tutta la maggioranza Il Tar di Palerma ha deciso di inviare alla Corte Costituzionale gli atti relativi ai ricorsi del Comune di Enna contro la Presidenza della Regione e l'assessorato regionale agli enti locali in merito alle proroghe dei commissari del Libero Consorzio Comunale di Enna l'amministrazione del Sindaco Maurizio Di Pietro ha sollevato il problema dell'incostituzionalità della legge regionale in virtù del pronunciamento della Corte Suprema che ritiene sostanzialmente illegittimo il rinvio dell'elezione dei consigli metropolitani e dei presidenti dei liberi consorzi comunali secondo il Comune con un pronunciamento molto chiaro della consulta che spinge verso l'elezione dei liberi consorzi l'ulteriore commissariamento degli enti è inammissibile e questo vorrebbe dire lezioni immediate come del resto sollecita la Corte Suprema Oggi 16 febbraio si celebra la giornata mondiale per il risparmio energetico Oggi 16 febbraio si celebra la giornata mondiale per il risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ufficialmente istituita dal Parlamento nel 2022 unificando la giornata sull'inquinamento luminoso esistente dal 2003 e l'iniziativa di sensibilizzazione mi illumino di meno promossa a partire dal 2005 la data fissa del 16 febbraio è stata scelta perché ricorre l'anniversario dell'entrata in vigore nel 2005 del protocollo di Kyoto sul riscaldamento globale ma quali sono i motivi per cui è necessario combattere l'inquinamento luminoso il primo è che le luci artificiali impediscono di vedere il cielo stellato un problema che non riguarda solo gli appassionati di astronomia ma tutti in quanto la privazione del buio ha effetti sulla salute umana causando disturbi del sonno riduzione della produzione di melatonina che regola i ritmi circadiani e addirittura un aumento del rischio di cancro alla prostata e al seno l'altro aspetto dell'inquinamento luminoso ovviamente è quello relativo al dispegno energetico spesso le lampide per l'illuminazione notturna sono eccessive o mal posizionate e inviano luce verso l'alto dove non serve a nulla per non parlare dell'illuminazione di edifici pubblici e monumenti per i quali vi è l'obbligo di spegnimento dopo la mezzanotte di tutte le luci non schermate verso l'alto che purtroppo spesso non viene rispettato insomma sprechiamo moltissima luce a livello mondiale si calcola almeno il 30% con relativi costi inutili e allora come è aiutare il pianeta scegliere la bici passare le rinnovabili condividere piantare alberi eliminare lo spreco alimentare riciclare e soprattutto spegnere le luci se non è strettamente necessario tenerle accese in attesa della famosa transizione energetica che chiama direttamente in causa le istituzioni e con questo servizio è tutto il nostro telegiornale termina qui io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio ai programmi di video mediterranei buona serata grazie a tutti